La domanda di posti letto cresce in maniera esponenziale e stiamo aprendo tutte le linee di assistenza per dare il servizio a tutti i cittadini. Stiamo cominciando ad ampliare l'offerta aprendo a convenzioni sul covid con gli ospedali privati e accreditati e gli ospedali religiosi, lo afferma questa mattina a Lanza Antonio Postiglione, capo dell'equip medica dell'unità di crisi per il covid-19 della regione Campania. La situazione è davvero particolare in Campania e si rischia di far collassare le strutture ospedaliere che accolgono i malati covid. Anche il presidio ospedaliero della città di Agropoli, a tre giorni dalla sua attivazione, risulta essere saturo. Il personale medico ed infermieristico lavora senza sosta presso il reparto sotto la direzione della dottoressa Rosa Lampasona, medico anestesista e rianimatore, che attraverso una intervista traccia un bilancio di come procede il lavoro e come si sta organizzando l'ospedale per ampliare i posti letto. Siamo già pienamente operativi, siamo in evoluzione come personale, anche oggi sono arrivati altri due infermieri, ne arriveranno degli altri, il personale medico per quanto mi riguarda non sono solo io come anestesista rianimatrice, ho altri quattro colleghi che mi affiancheranno nel lavoro che come sapete per quanto riguarda i pazienti covid è un lavoro di equip associati insieme all'infettivologo Gianfranco Yelmi, ci stanno dando già un supporto anche tutti i colleghi internisti che già erano nel presidio ospedaliero, quindi stiamo anche aumentando le forze lavorative di operatori sanitari, il reparto è pieno nel senso che abbiamo ricoverati pazienti che per fortuna, io parlo come intensivista, non abbiamo nessun paziente in terapia intensiva, quindi non ci sono pazienti gravi sotto ventilazione meccanica, sono tutti pazienti che necessitano sicuramente di ossigenoterapia con polmoniti interseziali classiche da covid, ma hanno ancora parametri vitali stabili, li riusciamo ad aiutare nell'ossigenazione, erano pazienti che non potevano sicuramente essere gestiti a casa e quindi in questo momento li stiamo aiutando grazie a questo reparto che abbiamo istituito nel giro di pochissimo tempo, stiamo veramente sollevando non solo il territorio perché ci tengo a precisare, sono tutti pazienti territoriali e quindi li aiutiamo perché a casa erano diventati ingestibili, i percorsi sono stati attivati nella sicurezza, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle TAC toraci che abbiamo seguito nella giornata di ieri, nella giornata dell'altro ieri abbiamo percorsi sicuri, lì dove si necessita di fare una TAC che non è sicuramente in urgenza, in elezione programmata, si organizza con il reparto di radiologia, da oggi abbiamo anche per fortuna una referente come medico radiologo che è importante che la dottoressa Maria Teresa Melisi che ci supporta e quindi sarà il referente del servizio di radiologia, quindi in accordo con la dottoressa Melisi abbiamo istituito i percorsi sicuri che fanno sì che la paziente che necessita di indagine radiologica dal reparto Covid in tutta sicurezza possa eseguire una TAC torace, dopodiché c'è una sanificazione completa dei percorsi in modo da far sì che è possibile eventualmente necessita un'altra TAC in un paziente non Covid con un percorso diverso, possa usufruire della radiologia. I percorsi sono totalmente diversi, abbiamo ascensori diversi, l'ascensore che va in radiologia dal Covid ha un percorso diretto, quindi lo stesso ascensore non è utilizzabile per i pazienti non Covid, quindi abbiamo una distinzione di percorsi, quindi chi sta male e viene nel nostro pronto soccorso, nel primo soccorso, può accedere liberamente, può fare indagini in sicurezza, può avere l'assistenza in sicurezza, cosa che è stata fatta fino adesso. Visto che ci sono tantissime richieste ovviamente per quanto riguarda i ricoveri, sappiamo che ci sono in atto dei lavori per ampliare ovviamente i posti letto, che cosa ci può dire in merito? Sì, sempre nel secondo piano, sempre nel secondo piano Covid, ci tengo a riprecisare questa cosa, quindi senza utilizzare spazi che sono stati già dibiti peraltro, parlo del primo piano della medicina, dove si continuerà ad assistere gli ammalati di medicina non Covid, così il primo soccorso attivo, sempre nell'ala Covid abbiamo un altro spazio che stiamo adibendo per nuovi posti di degenza, parliamo sempre di pazienti che non possono essere gestiti a casa, non sono gravi da terapia intensiva, ma necessitano di un supporto di ossigeno respiratorio che non si può fare a casa e quindi li aiutiamo creando in questa ala sempre di Covid, quindi sempre all'interno dell'ala Covid secondo piano, ulteriori posti di degenza che si spera, ma penso che ci siamo già, i lavori sono già iniziati nella mattinata di oggi, nel giro di pochissimi giorni possiamo poter accogliere chiunque ne abbia realmente bisogno. Noi speriamo numericamente di arrivare almeno a otto posti, noi cerchiamo di aumentare questi posti proprio per il nostro territorio, sperando che non ne abbia bisogno.